ben trovati alla seconda puntata di libritudine secondo libro che vado a recensire un libro stupendo piccolino della marcos i marcos come casa editrice di william goldman il silenzio dei gondolieri e la trama è abbastanza semplice di questo ragazzo tontolone dalla faccia da tontolone luigi che ha un sogno c'è quello di diventare gondoliere diventa gondoliere ma incontra una serie di difficoltà perché vuole che tutti i suoi sogni vengono siano anzi esauditi e uno dei suoi sogni è puntini 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 non lo dico se non leggete il libro e alla fine probabilmente riuscirà non come lui voleva voleva che si realizzasse questo suo sogno ma lo riesce ad attuare in una maniera completamente differente come tutti i sogni degli esseri umani si realizzano però proprio nei modi non proprio come le desideriamo e william goldman leggo la sua la sua biografia è uno dei sceneggiatori e drammaturghi importanti di hollywood fra quei fra i suoi fra le sue opere più importanti cito il film papillon miseri non deve morire un film che credo che conosciamo un po tutti quanti tra i suoi romanzi ci sono dei capolavori come il marato in maratoneta che sono vere e proprie pietre miliari del cinema contemporaneo un libro che si legge facilmente ma una sua delle sue particolarità ha dalle sue ironie molto molto pungenti e ogni capitoletto nel percorso della vita di luigi del suo personaggio principale e termina sempre con una citazione o sempre dei riferimenti alla vita del dell'essere umano e voglio citare una che mi ha colpito che mi è piaciuta di più dove scrive goldman ci sono molti aspetti negativi della natura umana certo ma ce ne sono anche di positivi e uno dei migliori e che i sogni delle persone i grandi sogni sono duri a morire ecco possiamo concludere questa breve recensione di questo libro che vi consiglio di leggerlo e lo troverete alla libreria 101 di bari il silenzio dei gondolieri di william goldman buona lettura e ci vediamo alla terza puntata di libritudine ciao